Nome Gianluca Marco Cognome Scabin Dell'Izzotti Abiti a Verona Roma Agente per la Regione Di Verona Lazio Umbria Collabori con PortoCork da Da sette anni Cinque anni PortoCork in tre parole Affidabilità Reattività Innovazione Veloce Affidabile Sicura La cosa più bella del tuo lavoro Il contatto con le persone La variabilità di tutti i giorni La cosa più difficile Il contatto con le persone Rapportarsi con gli anni con i clienti L'ingrediente segreto di PortoCork Non lasciare mai niente al caso La serietà e la materia prima Se fossi un tappo PortoCork Quale sarei SensCork M di te Fai l'espressione di una bottiglia tappata con un tappo di plastica Fai l'espressione di una bottiglia tappata con un tappo PortoCork Fai un saluto ai tuoi clienti Saluto a tutti Come ti dichiari Ecocentrico Ecocentrico Ecocentrico